A Giarre scoppia il caso Gettonopoli. A puntare il dito contro l'attività svolta dai consiglieri nelle commissioni sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle giarrese che questa mattina hanno convocato una conferenza stampa nella sede dell'Ars di Catania assieme al senatore Mario Giarrusso e alla deputata regionale Angela Foti. A finire nel mirino della loro attività ispettiva, svolta principalmente negli ultimi sei mesi, sono nello specifico la seconda, la terza, la quarta e la commissione ospedale. I grillini contestano non solo le argomentazioni oggetto delle sedute, ma anche la durata di queste, a volte solo di 15 minuti, tutto a loro dire per assicurarsi un gettone di presenza. Inoltre alcuni verbali sarebbero privi della firma della segretaria e di fatto invalidi. Il quadro non è molto diverso da quello trovato in altre situazioni, ma con delle peculiarità. Questa volta, nonostante il regolamento preveda la presenza del segretario, la redazione dei verbali, i verbali praticamente nella stragrande maggioranza dei casi non sono firmati, eppure sono stati pagati dalla ragioneria comunale. Abbiamo numerosissime sedute in cui lo scopo della seduta è la lettura dei verbali precedenti, abbiamo verbali sedute numerose che durano dai 15 ai 30 minuti, insomma un tempo che ci appare veramente inconsistente per sviluppare delle tematiche che hanno a che fare con le problematiche della città. Tutto questo da parte nostra dal punto di vista politico è sicuramente inaccettabile, perché l'Anci, l'Associazione dei Comuni e generalmente tutti i comuni giustamente lamentano i tagli che provengono dallo Stato e della Regione, lamentano l'impossibilità di poter far fronte a tutte le necessità che ci sono, anche piccolezze, anche cose particolarmente gravi del disagio che si vive nei comuni. E Giarre non è esente, infatti è un comune che spesso torna alla ribalta della cronaca, purtroppo per le difficoltà economiche che sta affrontando. E allora mettiamoci d'accordo, perché se ci sono dei problemi economici bisogna anche che i consiglieri comunali, il consiglio comunale, affronti questa tematica rivedendo il regolamento comunale, assumendo un atteggiamento più consapevole, più responsabile nei riguardi della città. Sicuramente dal punto di vista politico ci sentiamo di dire che è una delle fotografie veramente più squallide che abbiamo trovato, soprattutto contestualizzata con la situazione del Comune, cioè molto spesso non si riesce a dare risposte neanche sui servizi sociali, sulla povertà, eppure non si rifiuta mai un gettone. E allora ci sembra che imbarba lo stesso regolamento, con delle interpretazioni veramente strumentali, si faccia di tutto per glissare quelle che sono le regole che lo stesso consiglio comunale si era dato con il regolamento comunale.